Musica Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Ragazzi vi spiego dove trovare questa lacrima salita Oppalescente e compagnia Basta dirigervi da questa parte Vi ho fatto vedere anche la posizione esatta Uccidendo anche l'albero L'avatar qua L'albero spirituale dell'albero minore madre Molto semplice Come avete notato all'inizio La canzone La scia da Un'energetica di Dragon Ball Niente l'abbiamo ucciso Ho fatto fare tutto al mio gemello poi alla fine E niente Un video brevissimo Quindi se il video vi è stato utilissimo Iscrivetevi al canale Lasciate anche il like Queste sono le due lacrime di cristallo È solida quello che ci ha droppato Sto mostro gigante E quindi grazie a tutti per questa visione Ragazzi E noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti